Italia Viva per l'ambiente contro le tasse, una serata positiva dove abbiamo affrontato il ruolo di Italia Viva nella prospettiva di un'Italia che può crescere, può investire in sostenibilità e sviluppo senza colpire il sistema produttivo. In questa terra ci sono aziende che prosperano e danno lavoro con la realizzazione di plastiche biodegradabili, positive e che fanno crescere l'economia. Non vogliamo farla morire, vogliamo eliminare la tasse sulla plastica, vogliamo eliminare le tasse che si è provato a introdurre con questa manovra, cambiando la manovra in meglio. Lo facciamo a partire dai gesti e dalle piccole cose, insegnamento nelle scuole, educazione civica, educazione ambientale, l'economia reale e sostenibile partendo da le azioni di tutti i giorni, incentivando e non bastonando chi realizza, chi investe in Italia e chi continua a credere. Partiamo da qui, eliminiamo la tasse sulla plastica a partire da questa finanziaria, investiamo sulle imprese, investiamo in sostenibilità. Grazie. 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 Grazie.